Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, guardate, guardate, che cazzo di schifo, fai muovere ormai scusa, io non mi ero trit, si ma gli occhiali, vedi, gli occhiali, no, sono stipenda, fa vedere ormai invece, ciao iscriviti, come sta? No che si disiscrivono! Welcome to Jump Rack! Ehi fratello, hai acidi! Ehi, dammi, 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 rinca, gara! Un bacino a tutti gli iscriviti, va! E l'Oscar va a Taylor dei TFG On Demand! Scusami, che se io sarebbe DiCaprio? In teoria sì, però, però. Gli Oscar donano, snelliscono! Gli Oscar donano, guarda, guarda. Sono in The Revenant, c'è un orso che mi sta per attaccare, ho vinto l'Oscar, ho vinto l'Oscar! Oddio! Oddio Minecraft! Quindi hai una nuova skin per la tua vita? Guardate ragazzi, te e Winnigan è Aerobren, Aerobren è una mod di Minecraft, ricordo. La tua faccia non può essere modificata. Questa è Topoli, no, questa è casa sua. Quella è Minnie, intanto. Questa è Minnie, eroi baffi! Minnie con i baffi! Oh, il mio preferito! Giotam! E cadrà nella mano di Joker! E Batman! Batman è uno stupido bebistello che mi fa il buio! E così, quando voi fate Batman, io faccio Joker, e quando mi hanno tagliato le labbra! Sono le guanze! Le labbra sono queste! Le labbra sono queste! Qui non è labbra, è guancia! O qualcuno si colluderà le mie mani! Giotam! Guarda, non togli l'effetto, scusami, è normale! Questo non è un effetto del... È normale, è quello senza effetti, giusto? Guarda! Guarda! Aspetta, vedete la colonna, è Rai Gorilla! Rai Gorilla! Alciarmi! Sono una coniglietta, una coniglietta allegra! Ma non potrebbe essere un coniglietto? Una coniglietta, una coniglietta! Ma sono finito! Guarda, l'innegan si è orribile, così! Yes, weekend! Che denti bianchi che ho, ti prego, guarda! Obama confirmed! Ma... Ma hai l'attività, non è così grazie? Aspetta, 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 guarda, guarda! Aspetta, aspetta! Rindnegan! Eh... Ho failato su Crash of Cranks! Tu dovevi sparare? Eeeeeee! Volevo il drago allo sparare! Beeeeee! Oddio, cos'ho visto? Oddio, cos'ho visto? No, perdi l'acqua! Perdo acqua! Andiamo qui! Ho visto che tu stai guardando il canale... E non ti sei iscritto e mi hai messo mi piace! È vero, è vero! È vero, è vero! È vero! Nooo! Uuuu! Uuuu! Guardati! Sono vecchio qui! Ciao a tutti ragazzi da TFZ! Oggi siamo su Crash of Cranks nell'anno 2078! Da municipio al centordici! Re Barbaro al centotrentasette! Miniere, due miliardi di risorse! Ho vendito il sette miliardi di doro, ventisette mila di elizir! Niero! Niero! Un centenari di daxod! Un centenari di daxod! Ah! No! Brk-brk! Snargh! Snargh! Bdduuu! Brk-bllbluaa! Brk-blblua! Brk-blblua! Brk-blbluaa! Brk-blblua! 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 Brk-blbluaa! Brk-blblua! Brk-blblua! Brk-blbluaa! Brk-blblua! Ma cos'è sta roba, a fare di merda o di cos'è? Dai, canta! I baffoni, i baffoni, devi avere due baffoni! Interessante! Ragazzi, sono un pezzo di escremento di qualcuno! Tiger Man! No, dimmi chi è questo qua! E' Joseph Stalin! In teoria è Stalin, giusto? E' Steve Stalin! Andate e morite per me! Andate e morite per me e chi non vuole morire per me lo uccido io! Esatto! Perché è giusto! Sto pensando di fare un trattamento visivo per i miei baffoni! I miei baffoni! Un trattamento visivo! Scusa, ho dei kiwi sugli occhi e non vedo! Ragazzi, oggi mi insegno come mettere il mascara alla Clio Makeup! Alla Clio Makeup! Sai chi è almeno? Clio Makeup! Ma la barba Clio Makeup! Scusa qui! Ma guarda che bella barba che ha! Quella lì è la cantante, quella che è metà e metà! Ho il dito nelle cervelle! Pasqua! Dai! Non lo vorrete! Sto vuoi essere sinceri? No! Questa è la prima cosa! E chi? No! Ancora Riek! 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 Vabbè ragazzi se il video vi è piaciuto la applicazione si chiama SMQRD! Ragazzi in finita potete fare sia foto che video e con questi effetti spaziali e guardate vi salutiamo con Riek! per sonne pommalude